Una risposta rapida e coordinata. L'uso efficiente e delle risorse. Sicurezza senza compromessi. Questi sono i tre aspetti più cruciali della moderna lotta antincendio. Ma quel che è cruciale durante un'emergenza rappresenta la quotidianità della lotta antincendio. Per esempio, tenere puliti i dispositivi di protezione respiratoria ed emergenza. Maiko, come innovatore e leader nel campo dei dispositivi di lavaggio, presenta la soluzione perfetta per la pulizia e la disinfezione dei dispositivi di protezione respiratoria. TopClean M TopClean M consente ai moderni vigili del fuoco di applicare anche nella pulizia dei propri dispositivi i tre aspetti più cruciali della loro attività. Rapidità, efficienza e sicurezza. TopClean M disinfetta in modo affidabile maschere di protezione respiratoria e regolatori di pressione. Per assicurare che il disinfettante raggiunga ogni componente della maschera, smontare le maschere utilizzate sul campo. Estrarre anche tutti i singoli componenti e metterli nei cestelli in dotazione. Il corpo della maschera e le parti interne si inseriscono comodamente nel cestello principale. A questo punto sono posizionate in modo ottimale per una pulizia perfetta. Un consiglio. Applicare delle targhette identificative a ciascuna maschera e ai relativi componenti rende molto più semplice il riassemblaggio. In questo modo non sussistono problemi nel combinare ciascuna maschera con le sue parti dopo la pulizia. Grazie alla struttura del cestello è garantito il posizionamento ottimale per la pulizia di tutte le parti. L'acqua e il disinfettante sono dunque in grado di raggiungere ogni rientranza. Per il passo successivo basta inserire il cestello caricato nell'unità di pulizia e disinfezione TopClean M Mico, selezionare un programma e avviare, però non distrarsi troppo durante l'attesa. Il programma più breve completa il suo lavoro in soli 6 minuti. TopClean M pulisce a fondo in modo automatico fino a 40 maschere di protezione respiratoria all'ora mediante un processo di pulizia e disinfezione chimico-termico ad alta efficienza. Inoltre, TopClean M usa poco più di un litro d'acqua per la pulizia di ciascuna maschera. Mentre il programma è in funzione, è possibile preparare per la pulizia i regolatori di pressione. Basta ripetere i passi eseguiti per preparare alla pulizia le maschere, smontare i regolatori di pressione e posizionare tutti i componenti nei cestelli appropriati. A questo punto, collegare il tubo flessibile dell'aria dell'unità alle valvole dei regolatori di pressione. In questo modo, i regolatori di pressione vengono pressurizzati durante l'intero processo di pulizia. Ecco fatto. Bastano 6 brevi minuti e 4,2 litri d'acqua e le maschere sono pulite. E qui è presente un altro vantaggio. Grazie allo speciale processo di pulizia TopClean M di Maiko, le maschere escono dall'unità già preasciugate. È sufficiente scuotere via le ultime poche gocce d'acqua intrappolate nelle rientranze delle maschere. Le parti più piccole possono anche asciugare all'aria aperta. L'innovativo processo di pulizia TopClean M di Maiko non solo rende più veloci i tempi di pulizia, ma riduce anche in modo considerevole i tempi di asciugatura. Per asciugare completamente le maschere, è necessaria poco più di un'ora. Delle temperature di asciugatura moderate aiutano a conservare la plasticità della gomma per assicurare la durevolezza a lungo termine. Non appena le maschere sono asciutte, è possibile iniziare il loro riassemblaggio. A questo punto è possibile controllare tutte le tenute sulle maschere. Non dimenticarsi della registrazione. Rimane solo da eseguire la sigillatura termica delle maschere pulite per l'uso successivo ed ecco fatto. Con TopClean M Maiko, l'intera batteria di maschere di protezione respiratoria è di nuovo pronta e operativa in tempi brevissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.